Eccoci con un nuovo video su Call of Duty Black Ops 2 e con un altro importante obiettivo che sono riuscito a raggiungere con un'altra bellissima soddisfazione che sono riuscito a togliermi su questo bellissimo sparatutto in prima persona ovviamente è riuscito a rientrare nei primi 1000 della classifica generale, poi nei primi 500 e adesso faccio questo video per farvi vedere che sono riuscito a raggiungere ben la 95esima posizione nella classifica generale punti 18.650.535 punti, 469 punti al minuto, 5.115 partite giocate e ben 27 giorni, 13 ore e 30 minuti di gioco veramente una bellissima soddisfazione e un bellissimo obiettivo che sono riuscito a raggiungere vi faccio vedere anche qualche caratteristica del mio profilo come 136.628 uccisioni e 2.948 vittorie vi faccio vedere invece qualche dettaglio della mia caserma come ad esempio modalità di gioco come ben sapete la mia preferita è uccisione confermata, ben 2882 vittorie, armi principalmente utilizzate PDV57 con cui ho quasi fatto 60.000 uccisioni, MSMC, l'R880 quindi il fucile a pompa, l'MP7 e il Vector K10 quindi quei primi 5 utilizzati maggiormente, equipaggiamento ovviamente le mie preferite bouncing betti e per quanto riguarda serie di punti, UAV, toretta robot, attacco vulminio, elicottero stealth e drone di scorta. Poi prossimamente nei prossimi giorni vi mostrerò anche qualche gameplay delle ultime partite a cui sto giocando e che mi stanno andando anche particolarmente bene. Quindi niente, volevo condividere con voi questo bellissimo obiettivo, questa soddisfazione personale su questo sparatutto in prima persona e ci vediamo con un prossimo video.